e voilà alza il volume oggi con un colpo di scena natale natale vuol dire anche bambini e oggi alzeremo questi due libri il primo è di alessandro cattelan come ben sapete il capitano di x factor ha scritto questo libro emma libera tutti un racconto particolare curioso da un autore che non t'aspetti eccolo qui il secondo libro altrettanto curioso la banda del calzino nero così farete al bambino tre legali il libro ovviamente la vostra compagnia se lo leggerete insieme a lui e poi anche inculcherete in questo bambino una cosa straordinaria bellissima mio giudizio c'è la voglia di leggere i libri che accompagnerà per tutta la vita alla prossima e buon natale